Sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Ancora un giorno e una notte nella camera mortuaria allestita all'ospedale San Martino per Franco Gatti, scomparso ieri mattina nel reparto di ematologia. Alla camera mortuaria Stefania, la moglie, ha visto l'affetto che circondava suo marito. Mi sono resa conto oggi che veramente è stato tanto amato e continua ad essere amato e questo mi ha riempito veramente il cuore. L'ultimo compleanno? È stato il 4, era all'ospedale. Ottant'anni in ospedale, poi dentro e fuori negli ultimi giorni per Franco Gatti, alternando i ricoveri alle abitudini. Le passeggiate sul lungomare di Nervi, il bar senza pensieri, vicino alla stazione. Ultimamente si vedeva un po' qui nel baretto qua, qualche volta si vedeva nel baretto lì dalla piazzetta, girava un po' così. Poi dopo una settimana non l'abbiamo più visto, ma non sapevamo che era... Qui tutti conoscevano Franco Gatti, una parola, un caffè sempre gentile. Era una persona bellissima, stupenda. Passava di qua, prima di andare in passeggiata, prendeva il caffè, bellissima, una bellissima persona. Aveva una polleria, la mamma di lui, e io lo conoscevo perché abitavo là. Franco e Pino, edicola nella piazzetta Pittaluga, si conoscevano da 40 anni. Ho dei bellissimi ricordi, e poi spesso era qua, però diciamo che dopo la morte del figlio non si era più ripreso. E' Franco, è semplicemente bravo. Tutti i negozianti del corso hanno appeso in vetrina lo stesso foglietto con le stesse parole. Hai preso la chitarra e hai suonato per noi, grazie Franco. E qui all'interno della chiesa di San Siro, a Nervi, che domani alle 11 e mezza si celebreranno i funerali di Franco Gatti e sono aperti al pubblico, a chiunque voglia partecipare.